A due mesi dalla scomparsa di Tiziano Birra, il clochard trovato senza vita lo scorso luglio, il suo cane, Bubu, ha finalmente trovato una nuova famiglia. Tiziano e l'amato amico a quattro zampe, un meticcio di due anni, vivevano in simbiosi all'interno della roulotte parcheggiata nel resede di una scuola in via 25 Aprile. Era stato proprio il fedele compagno di vita a lanciare l'allarme e a far trovare il corpo senza vita dell'ex falegname svizzero che da oltre dieci anni aveva scelto Arezzo per vivere. Bubu, dopo la morte del clochard, stroncato da un malore, era stato affidato alle cure dell'EMPA. Nei giorni successivi le richieste di adozione non erano mancate ma nessuna si era poi concretizzata. Adesso finalmente una famiglia a retina ha deciso di adottarlo e prendersi cura di lui. Per Bubu inizia così una nuova vita. Abiteranno lontano dal quartiere in cui ogni giorno si recava proprio con Tiziano. E dove tutti lo conoscevano.